L'assessora regionale Alessandra Nardini, in occasione della 24esima edizione del meeting dei diritti umani che viene organizzato ogni anno dalla regione toscana, ha lanciato un appello per la liberazione dello studente egiziano Patrick Zaki, incarcerato ingiustamente al Cairo dal febbraio scorso. La Toscana è da sempre terra di diritti e quindi vogliamo unire la nostra voce a quelle che in queste ore, in queste settimane, in questi mesi hanno chiesto giustamente che Patrick Zaki sia liberato. Un calvario il suo che si rinnova ogni 45 giorni, un calvario ingiusto. Questo ragazzo deve tornare dai suoi affetti, deve tornare ai suoi studi, come tutte le ragazze e tutti i ragazzi hanno il diritto di poter fare e deve tornare a combattere per difendere i diritti e la dignità umana.